Si è chiuso positivamente con un fatturato in crescita all'anno 2015 per il Pala Riccione. Cresce il patrimonio netto raggiungendo 727.000 euro, così come crescono i crediti che sfiorano il milione di euro. L'Assemblea dei Soci della New Pala Riccione SRL ha approvato all'unanimità il bilancio al 31 dicembre 2015, esprimendo plauso e soddisfazione per gli obiettivi raggiunti. Tutti i valori del conto economico risultano in netto miglioramento con un ritorno all'utile, nonostante il persistere della difficile congiuntura economica del mercato congressuale italiano. Con un fatturato di oltre 3 milioni di euro, più 7,57% rispetto al 2014, e un utile di 196.000 euro contro la perdita di 65.000 euro registrata nel 2014, la New Pala Riccione ha centrato l'ambizioso obiettivo che si era posto a inizio dello scorso anno di raggiungere il margine positivo. Traguardo ottenuto a conferma del percorso virtuoso intrapreso dalla società nella gestione caratteristica dell'impresa e della qualità del lavoro svolto dal management e dai dipendenti nel massimizzare i ricavi da un lato e ridurre i costi dall'altro. I dati di New Pala Riccione registrano infatti, in controtendenza con l'andamento stagnante del mercato congressuale italiano, un netto miglioramento. I ricavi sono in crescita del 7,57% e si attestano ad oltre 3 milioni di euro. Sono stati in oltre 177 i giorni lordi di occupazione e 114 i giorni netti, ossia i giorni in cui si sono svolti gli eventi, con 37.700 partecipanti e 79.500 presenze complessive.